Torna a Start Cup Puglia, la quindicesima edizione del premio regionale per l'innovazione della Puglia. Hai un'idea imprenditoriale innovativa? Fino al 5 luglio 2022 puoi prenotare e partecipare gratuitamente alle sessioni online dall'idea al business plan per mettere a punto il tuo progetto. Ma ricorda, entro il 16 settembre puoi comunque candidare il tuo progetto alla gara dei business plan. Possono partecipare alla competizione le imprese innovative già attive dal 2022 o team informali, anche di una sola persona fisica, che intendono avviare in Puglia un'impresa innovativa nei settori Life Science, MedTech, ICT, Clean Tech and Energy, Industrial. La giuria di esperti valuterà i migliori progetti imprenditoriali da ammettere alla finale della Start Cup Puglia 2022. Ai quattro progetti vincitori saranno assegnati premi fino a 10.000 euro e l'accesso diretto al PNI, Premio Nazionale per l'Innovazione. 2.000 euro saranno assegnati al miglior progetto che ha terminato o sta effettuando il percorso di accompagnamento imprenditoriale nell'ambito dell'intervento regionale estrazione dei talenti. E, novità di questa quindicesima edizione, 2.000 euro e l'accesso al PNI per il premio speciale Green and Blue Climate Change, realizzato in collaborazione con il gruppo GEDI per il miglior progetto di contrasto al cambiamento climatico. Oltre alla menzione speciale del Premio Regionale per l'Innovazione, vi saranno le menzioni speciali per i migliori progetti di Innovazione Sociale, Impresa Sociale in Ottica di Pari Opportunità. Altri premi potranno essere messi in palio dal Comitato dei Promotori. Start Cup Puglia è organizzata da ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato dei Promotori, e PNI, Premio Nazionale per l'Innovazione. Partecipa a Start Cup Puglia 2022, gara tra progetti imprenditoriali innovativi. Info e regolamento su www.startcup.puglia.it